IOP Young è il concorso che l'IOP ha organizzato per i soci ordinari under 35 sia clinici che tecnici. I ragazzi che hanno partecipato hanno presentato un caso e sono stati selezionati da una commissione pregeduta dal dottor Di Febo che ne ha poi a sua volta selezionati tre finalisti e questi tre finalisti sono stati poi valutati hanno presentato il caso davanti alla platea dei partecipanti al meeting mediterraneo che hanno tramite un voto online giudicato e valutato il caso migliore e il secondo caso e infine anche il terzo caso quindi è stata secondo noi una grandissima esperienza una grande opportunità per i giovani clinici e i giovani tecnici di farsi conoscere all'interno della nostra accademia e di far vedere quali sono le loro potenzialità le loro qualità devo dire che tutti i partecipanti hanno mostrato una capacità clinica e odonto tecnica veramente di grande valore anche nonostante la loro giovanità i casi presentati sono stati veramente di eccellenza quindi lascio la parola a Saverio per si descriva così la sua esperienza in questo in questo contesto l'esperienza mia è stata importantissima perché la prima in un contesto importantissimo come quello dell'IOP è una cosa che secondo me tutti dovrebbero fare ma si di sicuro un IOP young quindi un giovane deve fare dire grazie grazie ai maestri uno è stato in parte per un annetto anche qua accanto a me grazie a Luca Sigel Stefano Petreni grazie mille e quindi la prima cosa è quella grazie poi alle persone che mi hanno spinto perché io tendenzialmente non sono tanto per apparire quindi grazie mille grazie e e nulla e spero soprattutto che sia il primo passo per proseguire un percorso all'interno della accademia che mi porti un giorno a avere ruoli più importanti ancora ma soprattutto a migliorare nel campo della protesi per cercare di far sempre meglio il mio lavoro quindi vi ringrazio e nulla passo la parola al the winner is Carlo Pulcini grazie mille Saverio e per me è stata veramente una bellissima emozione salire sul palco dell'IOP qualcosa che non avrei nemmeno immaginato fino a qualche tempo fa e è stata un'occasione bellissima di condivisione perché si è creato comunque un bel network e ho conosciuto molti colleghi coetani anche loro appassionati come me di protesi e questo devo dire che è stato molto stimolante e mi ha aiutato ad entrare in contatto meglio con con l'IOP e invito assolutamente tutti i ragazzi giovani come noi che sono appassionati alla protesi a intraprendere per il futuro questo tipo di percorso beh grazie mille volevo fare i complimenti innanzitutto ai due Carlo e Saverio che sono saliti sul podio è stata un'esperienza bellissima dal punto di vista sia formativo che umano sono incontri che al di là di tutto convolgendo anche i giovani creano quella che è l'aggregazione verso le accademie verso le associazioni esperienza bellissima grazie al dottor Gaetano Noè a Luca Sigel a tutto il comparto della commissione che ci ha permesso di poter esporre i casi nonostante diciamo tra virgolette la giovane età grazie Bene complimenti direi che do l'appuntamento ad IOP Young 2023 dove mi auguro che i partecipanti siano ancora più numerosi e che l'opportunità di farsi conoscere all'interno dell'accademia sia ancora più estesa e più partecipanti concludo con una cosa questo potrebbe essere il primo gradino di crescita e per poter un domani aspirare a diventare i soci attivi della nostra accademia quindi diventare una parte veramente attiva bene grazie a tutti